ciao ragazzi allora oggi siamo qui con un collaboratore esterno Pietro adesso si presenterà da solo in maniera autonoma a parlare di una macchina della sony una macchina destinata a un preciso ambito professionale diciamo così anche perché è diventata in effetti una professione il vlogger parliamo della sony zv e 10 che è uscita poche settimane fa lo sentiamo un po pietro sentiamo le sue la sua presentazione cosa fa cosa non fa chi è comunque un è un videomaker professionista ciao ragazzi io sono pietro fantuzzi sono un videomaker ormai faccio video da diversi anni più di 15 anni non sono un vlogger però comunque ho a che fare quotidianamente con telecamere e con tutta la parte di post produzione video voglio ringraziare i ragazzi di pro mirrorless voglio ringraziare roberto damiano e simone per avermi dato l'opportunità di provare questa questa macchina questa sony e mi darò qualche le mie opinioni su questa macchina è la prima volta che la prendo in mano non ho avuto modo di lavorarci seriamente questa macchina dunque queste saranno le mie prime impressioni e cercherò di dirvi un po i pro i contro di questa macchina io ho utilizzato avevo un corpo macchina sony avevo una 7000 una a 6005 una 6003 questa ha molte caratteristiche simile a quelle macchine lì ma dopo andremo nel dettaglio che comunque è vero io sono stato un po passatemi i termini del bastardo perché non l'ho fatta mai prendere in mano prima di questo momento a pietro questa macchina ma avviene anche bene questa sorta di test improvviso su strada perché abbiamo pensato un vlogger spesso il vlogger non sa neanche di cosa i tempi diaframmi isono quindi deve avere una macchina estremamente easy che ti facilita il lavoro quindi lui non ha mai è vero che conosce comunque le videocamere è vero che ha usato le sony aps c per lavoro però è una camera questa fatta in maniera diversa come specialmente come interfaccia quindi poi pietro ci spiegherà se in effetti questa macchina può facilitare o meno il lavoro a un vlogger adesso noi faremo diverse riprese in diverse situazioni situazioni tipiche appunto del lavoro del vlogger intanto che le faremo le farà pietro le riprese io lo riprenderò intanto che lavora e daremo subito e anche lui darà subito le sue impressioni su quello che è la funzionalità di questa macchina in diversi aspetti del vlogger quello che può essere la ripresa tipo selfie quello che può essere che ne so il lo slow motion la qualità anche del 4k ma la giudicherò poi io anche se poi mi ha già spiegato che il 4k si giudica a livello di ciccia di file no nel senso un 4k è meglio di un altro o meno no è meglio di un altro quando ha tante informazioni e quando si va a post produrre col programma che sia da vinci che sia final cut con la color correction la gamma dinamica i bit con cui viene registrato ti dà la possibilità di rendere il file più o meno malleabile quindi di poter avere un'ampia gestione in fase di post produzione sì in ripresa fai fatica a capire se un file è bello o non è bello anche perché quei display qua bene o male sesso appiattiscono un po' no? esatto questo display è abbastanza luminoso ma comunque è un po' ottimizzato per il corpo macchina che si ha in mano il vero file quello si riconosce quando lo si lavora poi sulla timeline questo dopo è tutto un altro paio di maniche io posso dare già le prime impressioni perché io questa macchina l'ho presa in mano Roberta me l'ha consegnata esatti dieci minuti fa la prima impressione che ho è la comodità di prenderla in mano e e di avere una macchina pronti via accendi e sei pronto per registrare ed è quello che richiede poi un vlogger c'è una camera quasi totalmente automatica con la possibilità di settare tutti i vari settaggi svariati ma comunque un vlogger non interessa di come dire ottimizzare la scena al vlogger interessa di essere pronto per registrare e di portare a casa il più registrato possibile ed è questa è la macchina ottimale cominciamo un po' a fare di girato vediamo un po' come funziona la macchina il parlato sarà mio io sto girando con una sony z v1 che sarebbe la sorella minore quella per capirci con sensore da un pollice è microfonato anche pietro in contemporanea quindi sia io che sto girando che pietro che sta utilizzando il mezzo diremo le nostre impressioni al volo faremo anche una prova un po' strana perché stiamo pensando un vlogger spesso ce ne sono tanti anche non sono chiaramente super professionisti usano l'iphone e faremo un po' di pseudo prova e confronto nel senso faremo una ripresa per non so filmare un oggetto un oggetto che può essere della vostra per la vostra produzione oppure una sorta di selfie vediamo se in effetti questa macchina a livello di facilità d'uso di immediatezza è come uno smartphone che poi alla fine quello che sony vuol fare io ti do un prodotto ottimi intercambiabili che sicuramente ha un ottimo a qualità di girato mi diceva pietro intanto che eriamo qui in questo parco gli dicevo ma l'iphone c'è alla fine va tanto uguale detto proprio così no terra a terra mi fa no allora la prima differenza è la memoria capacità di memoria se io faccio un filmato 4k con un iphone alla faccia fai la svelta e riempire la memoria e se prendete un iphone con mi hai detto un tera l'iphone 13 ha la possibilità di avere un tera di spazio dentro ma costa 1700 1600 euro capite bene questa su strada con un obiettivo in dotazione costa circa 850 euro le cifre sono diverse e poi cosa fate tirate giù la schedina la mettete in altra quindi già questo è un fattore che va a diversificare tantissimo la possibilità di scelta pensateci bene una macchina del genere e poi anche la qualità del sensore l'iphone ha un sensore microscopico è buono l'hanno migliorato negli anni ma comunque è un piccolo sensore questo invece è un sensore della che prende preso dalla famiglia dell'A6000 io avevo in passato l'A6500 ed è un ottimo ottimo lo stesso poi da 24 milioni sempre quello esatte si è lo stesso è un ottimo sensore a psc cominciamo le nostre prove allora adesso facciamo una prova vedete pietro sta provando la macchina posizione tipica di un vlog ci sta riprendendo per provare sia la stabilizzazione che in questo caso come sapete elettronica sia la qualità dell'audio adesso fai due chiacchiere pietro vediamo con un po come che impressioni allora è una macchina veramente facile da usare richiede poca pochissima competenza basta accenderla e pronti via la stabilizzazione anche se non è sul sensore ma elettronico sembra abbastanza buona anche in camminata poi grazie al tripod abbiamo tutti i pulsanti a portata di dito dunque non dobbiamo neanche usare l'altra mano per toccare il corpo macchina e anche in camminata come dicevo sembra veramente stabile l'audio vedi i V-meter sulla macchina ti sembra che risponda correttamente se si l'audio sembra sembra buono dopo chiaramente in studio bisogna verificarlo con il corredo c'è anche l'opzione del gatto morto sopra per attenuare un po il vento sul sul microfono sembra e anche soprattutto la macchina non è pesante io ormai sono due minuti che tengo il braccio alzato ma non sento nessuna non ho ancora nessun crampo sul braccio dunque anche per l'utilizzo intensivo all'aperto in questo modo al vlog non accusa nessuna stanchezza proviamo a fare la stessa cosa ma questa volta utilizzando un iphone un iphone che è uno strumento che viene utilizzato tantissimo dai vlogger poi vediamo poi la differenza che c'è perché sia a livello di stabilizzazione sia a livello di qualità del girato sia a livello di fonia vediamo un po se vale la pena comprare una z v e 10 oppure utilizzare un semplice iphone come avete in tanti si allora già prima impressione che quando mi muovo cammino con l'iphone chiaramente ho tutta la vibrazione del braccio sul telefono e si vede anche nel display in post produzione poi andremo a vedere anche l'audio come si sentirà andremo a sentire l'audio come si sentirà ma sicuramente sulla sulla sony sentirà meglio perché c'era il microfono dedicato questo è un microfono di un telefono con tutti i pro e il contro è chiaro che si si possono attaccare gli accessori però a sto punto dico tanto vale attaccare degli accessori su una fotocamera dedicato comunque non è detto è noi facciamo queste prove anche perché può essere un confronto interessante per uno che vuole fare un investimento un vlogger fare un investimento a capire se ne vale la pena o meno di continuare a usare l'iphone con tutti i fattori negativi che abbiamo già detto quindi capacità di memoria limitata qualità del 4k vediamo com'è stabilizzazione audio eccetera eccetera andiamo adesso a fare un'altra prova la prova tipica di chi deve vendere prodotti e sarebbe la product case che è una funzione particolare che ha questa ZV10 quando si deve presentare appunto un prodotto facciamo adesso la prova sto registrando con microfono interno della macchina della funzione product case cosa vuol dire chiaramente un vlogger una cosa tipica che fa è presentare dei prodotti un paio di calze un pacchetto di sigarette un telecomando tutti i vari accessori no se io come in questo caso tengo abilitato al riconoscimento viso occhi che funziona benissimo su questa sony se pietro solleva l'oggetto la messa a fuoco continua a stare sul viso e quindi va tutto a svantaggio della nostra del nostro girato se io col pulsantino vado ad attivare la funzione product case e comunque cioè la funzionalità direi che è eccellente no è molto molto comoda cosa ne dici pietro io non sto vedendo ma sicuramente mettere a fuoco l'oggetto senza nessun bisogno di mettere il cliccare sullo schermo per agganciarlo adesso si sta vedendo guardate tiene agganciato comunque velocissimo questa è una gran comodità allora adesso proviamo la proviamo la macchina sul cambio del fuoco andiamo a esaminare bene la velocità del dell'autofocus proviamo a inquadrare diversi oggetti a vedere quanto ci mette a mettere a fuoco il soggetto ho qui adesso sto inquadrando il cavalletto ma se cambio vado su roberto ci mette veramente pochissimo a mettere a fuoco il viso di roberto e la messa a fuoco è precisa precisa e molto e anche molto chiara anche sul display torno sul cavalletto a distanze diverse vedete che mette subito fuoco l'oggetto su questa macchina c'è anche la possibilità di regolare la velocità di transizione che so che della messa a fuoco so che una cosa che interessa tantissimo il videomaker giusto si proviamo a cambiare la velocità di transizione ma anche questa a questa velocità che è la velocità e l'impostazione di macchina comunque la cos'è la impostata sulla media si sulla media sul valore 4 da valva da un valore da credo da 2 a 7 ed è la giusta velocità di transizione si ci mette veramente pochissimo a cambiare a mettere a fuoco non troppo comunque quel tanto che dà una piacevolezza comunque poi al girato no si oddio quando si tratta di vlogger non interessa tanto la piacevolezza ma interessa molto più la la praticità l'efficacia e la velocità e questa è veramente fantastica facciamo una prova a confronto ancora con il mitico iphone stessa cosa vediamo la velocità di transizione l'aggancio sul soggetto e pietro ci dà le sue impressioni proprio al volo in diretta allora la velocità di messa a fuoco di questo di questo iphone è notevole ma la differenza principale è che comunque appiattisce tutta l'immagine c'è lo sfocato del soggetto principale e il fuoco del soggetto principale è uguale allo sfondo quindi c'è una pdc proprietà di campo talmente ampia che praticamente tutto a fuoco esatto ma anche se ti avvicini molto al soggetto da riprendere rimane sempre questa impressione di piattezza no se ti avvicini chiaramente l'oggetto principale risulta molto più vicino rispetto all'oggetto secondario che in questo caso è il tronco dietro il tronco dietro più sfocato però a questa distanza più o meno invece è tutto a fuoco invece nella sony rimaneva a fuoco il soggetto principale e creava creava uno sfocato piacevole piacevole dire quindi in questo caso sony vince 3 a 0 rispetto all'iphone sì sì assolutamente ma poi anche nei movimenti cioè ritorniamo sempre sul discorso della stabilizzazione quando mi muovo quando mi muovo vedo comunque un'immagine non stabile cosa che dopo sul monitor del computer lo andrò a vedere ancora molto di più adesso proviamo alla funzionalità slow motion che anche questa è una chicca non dico quasi indispensabile anzi no è praticamente indispensabile perché ti permette di fare un girato molto particolare che in certe situazioni direi che quasi obbligatorio qui abbiamo il buon pietro che sta andando a caccia di piccioni anatre volatili in genere e vediamo il girato della macchina in slow motion e tenete conto che gira in full hd e l'audio chiaramente non viene registrato però poi durante il montaggio chiaramente ci montate sopra la vostra voce il vostro parlato anche un pezzo musicale c'è di bello sempre con questa macchina che con un tasto diretto si può arrivare velocemente alla funzionalità slow motion come la funzionalità foto e la funzionalità video cosa ne pensi come ti sembra adesso che lo stai guardando la qualità di questo slow motion cos'è un 100 fps mi pare un 100 fps vuol dire che si può in post produzione rallentarlo 4 volte su una timeline di 25 fps qui mi dimentico sempre che non c'è il touch sul display bisogna usare i tasti comando per far partire la registrazione e intanto qui pietro puoi già apprezzare o meno la visibilità delle lcd si sotto luce ambiente si allora sotto sole diretto si vede si vede abbastanza ma chiaramente può essere faticoso vederlo magari sotto un sole diretto ma comunque io ho alzato la luminosità dello schermo al massimo ci sono un po di riflessi ma comunque la qualità del display è ottima un po come nella nella 6600 ci si lavora bene insomma ma servirebbe avere anche un mirino oppure per un videomaker o vlogger il mirino è una cosa praticamente inutile no io il mirino non lo utilizzo mai quando registro video utilizzo monitor esterni o il monitor incorporato della macchina quindi per il videomaker il mirino può anche non esistere esatto infatti infatti questa macchina esatto non ce l'ha neanche il mirino ma perché destinata a un utilizzo più da da vlogger dunque da guardare in comodità sul display adesso pietro ci spiegherà dopo circa un'oretta che sta maneggiando la macchina quelle che sono le sue impressioni intanto ve la faccia anche vedere e ci racconterà appunto la funzionalità se si è trovato bene male e la comodità appunto dell'utilizzo e la velocità nell'utilizzo ok allora innanzitutto questa ma chiaramente non è una macchina professionale ma è una macchina un po per chi inizia a fare video oppure hanno hanno necessità di produrre video velocemente al tatto è plastica si sente che comunque è plastica neanche troppo dura dunque non dà proprio l'idea di essere una macchina robusta è piccola dunque con tutti i pro e contro chiaramente il pro che poi lo puoi tenere in tasca la macchina chiusa e portare ovunque il contro è che comunque hai tra le mani un una telecamera piccola dunque io non sono abituato a utilizzare queste macchine tenete conto che pietro sta parlando da videomacker e non da vlogger sì sì assolutamente poi io avevo una 6500 l'ho utilizzata per qualche lavoro ha più o meno la grandezza della 6500 però io la prima cosa che avevo fatto è comprargli un case da metterli intorno per poi metterci tutti gli oggetti attaccati tipo monitor esterno microfono esterno ma comunque mettendoci un case intorno dava più più piacevolezza nell'uso e anche molta più robustezza questa è chiaramente destinata a un uso diverso non professionale i tasti sono pochi sono pochi piccoli pochi piccoli ma sono abbastanza funzionali piccoli anche perché la macchina è piccola quindi non è che poi poi metterci poi dei tastoni enormi anche perché comunque ne ha abbastanza di tasti quel tasto che ti permette di switchare quello di fianco al al gatto tra le varie funzionalità foto video e slow motion lo ritieni una cosa utile e comoda oppure si poteva anche farne a meno cioè nel senso agevola l'operatività ma è comoda perché non hai una ghiera che te lo fa dunque è comoda per quella chiaramente al professionista non è pratico a schiacciare un tasto per passare a foto e video anche perché non ha assolutamente un vlogger può essere si può essere comodo considerate che un vlogger questa macchina viene compatta più che altro per fare video non tanto non tanto foto e quei tasti che ti servono per abilitare lo sfocato quel c1 che abbiamo sul proprio sul sulla parte superiore della fotocamera in pratica ti va a impostare la l'apertura massima dell'obiettivo no c'è quindi se ne chiede i diaframmi può essere comoda sì sono sono comodi il tasto per lo sfocato ma anche il tasto per mettere a fuoco l'oggetto che abbiamo visto quello forse ancora più comodo e questo si è ancora più comodo quello che non capisco è un po il power zoom il power zoom è un po da macchina compatta il power zoom cioè che senso è troppo veloce troppo non è abbastanza fluido si è molto da macchina molto entry level il power zoom anche perché comunque devi avere delle ottiche predisposte per il power zoom ma soprattutto chi fa video di un certo livello non utilizza assolutamente un power zoom anche perché poi non non riesci a a gestirlo bene cioè diciamo è troppo veloce va troppo a scatti si va troppo a scatti e come dire è sempre meglio utilizzare comunque la ghiera sull'obiettivo adesso prima di fare la nostra chiacchierata finale sony ci ha mandato anche un obiettivo un 10 un 10 18 mi pare un obiettivo grandangolare faremo un breve girato con questo obiettivo perché un grande vantaggio che ha questa macchina rispetto alla sorella minore z v e 1 è che ha le ottiche intercambiabili che veramente può essere veramente molto comodo anzi basilare se voglio fare riprese per chi tipo macro su soggetti estremamente piccoli invece con obiettivo macro oppure riprese lunga distanza imprendete l'obiettivo e comunque con la qualità superiore rispetto agli obiettivi che possono essere o sugli smartphone oppure sulle sulle fotocamere della concorrenza comunque vedete che la gestione estremamente rapida adesso in pratica ci stiamo auto riprendendo siamo in loop e il prodotto è molto molto fruibile molto semplice quindi alla fine poi faremo un discorso finale più compiuto la macchina ti è sembrata sufficientemente valida come qualità costruttiva interfaccia comandi eccetera è abbastanza semplice quello che ho visto che ti è mancato è il touch sul menu che sarebbe una cosa estremamente comoda qui in pratica il touch funziona vedete anche il touch per il play non funziona lui è abituato è abituato alla sua s5 che completamente il touch il monitor e questo renderebbe ancora più facile e quindi una cosa che sony avrebbe dovuto pensarci quando prodotto e ingegnerizzato questa macchina adesso andiamo a fare una piccola ripresa con i 10 18 vi faremo vedere poi la qualità del suo girato f4 che in obiettivo per apsc chiaramente ampia tantissimo le possibilità di questa macchina perché ti permette di avere un angolo di campo un 10 per uno e mezzo diventa un 15 quindi veramente notevole adesso sta facendo del girato un po di panoramiche per far vedere la qualità appunto e poi adesso si fa un mega selfie simuliamo il vlogger allora vedete dal vivo la velocità di impostazione della macchina pietro adesso è un vlogger di 15 anni che si fa il suo giretto insomma 15 forse appena di più si fa il suo giretto al parco ducale e avere un'ottica così grandangolare può essere comodo si si amplia tantissimo l'inquadratura sicuramente è un'ottica più pesante rispetto a quella di prima vabbè l'altra sembra che non esiste sarà 50 grammi qui dopo un po il peso lo senti sul braccio dunque l'autofocus come ti sembra l'autofocus è ottimo inquadra subito mi mette subito fuoco l'occhio anche l'oggetto davanti si le funzionalità poi rimangono le stesse l'unica cosa che non c'è chiaramente lo zoom motorizzato perché lo zoom manuale su questo obiettivo si il power zoom non funziona infatti se provo a utilizzarlo viene fuori la scritta non abilitato perché comunque credo che siano soltanto cinque gli obiettivi del parco ottiche della sony per utilizzare il power zoom allora chiacchierata finale con pietro che ci dirà un po un riassunto di quelle che sono le sue impressioni su questa z w e 10 allora ottima macchina bella macchina per iniziare a fare video e anche per il ragazzino o comunque il vlogger che vuole farsi delle riprese poi dopo da postare su youtube o quant'altro il prezzo è abbordabile è adeguato è adeguato è adeguato anche perché comunque ha alcune funzionalità che non ne abbiamo parlate ma che comunque al vlog possono essere interessanti tipo quello della possibilità di utilizzarla come come webcam collegata quindi funzionamento in streaming no difatti la macchina si può collegare con un cavetto a un personal computer si se un ragazzo utilizzare anche uno sony xperia come come router giusto se sul girato va direttamente sulle sullo smartphone poi si può connettere la rete considerate che una buona webcam uno streamer che vuole streamare su twitch su youtube una buona webcam costa dalle 100 alle 150 euro più o meno quindi parli tipo logitech esatto e questa ha la la figata che è di collegarla direttamente al computer e non hai bisogno di scattolotti convertitori black magic per convertire il segnale della macchina al computer quindi puoi collegarla tipo non so obs la vedi direttamente come lo colleghi tramite usb e obs te la riconosce subito come come webcam come telecamera esterna dunque non hai bisogno di convertitori e questo è molto chiaramente dopo la qualità dell'immagine ha un aumento non notevole rispetto a utilizzare una webcam e poi l'altra figata è che comunque alle ottiche intercambiabili come abbiamo detto dunque si ha sempre la possibilità di ampliare il proprio parco ottiche anche se chi inizia con questa macchina difficilmente va poi a comprarsi un'altra ottica. Cioè dici che una volta che becca la macchina con l'obiettivo in kit si ferma lì? Sì di solito sì è un po come quelli che comprano le macchine tipo Canon, Leos si fermano lì e poi dopo se vogliono come dire aumentare il proprio parco ottiche vanno su un altro corpo macchina ma comunque per iniziare questa ripeto è un'ottima macchina. Comunque non ti blocca un'espansione futura anzi ti dà la possibilità una volta che magari lavori sempre di più cerchi magari ti danno delle commissioni in cui servono certi tipi di girato che ne so può essere una ripresa anche a livello ravvicinato di oggettistica molto piccola questa macchina ti dà la possibilità di beccare un obiettivo macro e quindi non sei frenato non devi cambiarlo ulteriormente ma in tutto sto discorso tutta questa chiacchierata questo girato che abbiamo fatto il discorso che interessava a me chiedere a Pietro è se un vlogger con una macchina del genere ha un vantaggio o meno rispetto alle altre macchine che sono attualmente in vendita dalla parte dei concorrenziali ma anche dalla stessa Sony tipo che ne sono 6.400 o l'utilizzo di un iPhone questa macchina ti dà un vantaggio in più cioè ti agevola il lavoro lo rende semplice non devi stare lì a cervellarti bottoni menu pippe varie è costruita apposta per questo settore questa macchina è una macchina che Sony ha targettizzato apposta per persone che vogliono fare vlogger comunque video sui social dunque è costruita apposta per le loro esigenze infatti anche anche il richiamo dei tasti per determinate funzioni va a semplificare molto l'utilizzo della della macchina quindi si percepisce l'ingegnerizzazione di Sony che adatta a sta macchina proprio ben ben direzionata è una macchina diciamo settoriale è fatta per i vlogger macchina quindi adatta al vlogger però mi dicevi che la vedresti bene anche facciamo due chiacchiere durante le riprese come macchina di backup a livello professionale per dire in un matrimonio no si se uno l'abbina alla 6.600 6.400 comunque credo che utilizzano le stesse batterie dunque hanno la possibilità di utilizzare le stesse batterie per due macchine che batterie non ce ne sono mai abbastanza non ce ne sono mai abbastanza poi ha l'uscita cuffie dunque per monitorare sempre il registrato audio il tripod ti dà la possibilità di comandare la macchina in movimento anche quando ti fai l'autoripresa dunque è fantastico e poi essendo bluetooth anche piazzate la macchina magari su un cavalletto alla distanza con schiacciate il pulsantino rack e movie in questo caso quindi si comanda la distanza un bluetooth anche che ha un ampia raggio d'azione e un consumo di batteria almeno questo il risolio almeno questo perché tutte le mirror di solito bevono batteria che è un piacere dunque target vlogger ma anche magari chi vuole comprarsi una macchina per farsi un viaggio siccome è molto piccola ed è molto funzionale potrebbe essere anche una macchina da viaggio questa qua e comunque perché fa comunque delle foto decenti perché il sensore è sempre quello sony da 24 che insomma anche a livello fotografico non è sicuramente scarso non ha il mirino però mai detto che le lcd comunque si usa bene anche in presenza di forte luce ambientale se uno vuole fare solo foto chiaramente non è la macchina ideale ma se vuole cominciare a fare video con poca spesa massima resa questo è proprio il riassunto poca spesa massima resa ma ultima domanda e poi andiamo ai saluti tra questo e l'iphone anche l'iphone 13 che è appena uscita no cioè per un vlogger cioè cosa consiglieresti proprio col cuore in mano cioè tanto sony non ci licenze no sicuramente no sicuramente questa l'iphone parte che costa molto di più perché chiaramente non è soltanto non fa solo video l'iphone però comunque per utilizzare un telefono tipo iphone per fare video hai bisogno di accessori da attaccarci microfoni esterni un case per stabilizzarlo questo invece costa meno hai delle caratteristiche da macchina professionale tipo ottiche intercambiabili uscita uscita microfiche uscita cuffie e poi batterie schede di memoria l'iphone ricordiamoci l'iphone 13 ha una capienza massima di un tera ma costa 1700 euro quindi questo è un prodotto che è più professionale ma nello stesso tempo mantiene la semplicità di uno smartphone come utilizza cioè non ci vuole un ingegnere ad operarlo almeno a livello diciamo basic che ti dà già comunque delle ottime prestazioni sì 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 e poi questa può essere anche indicata magari per le aziende nelle aziende ufficio marketing che vogliono dotarsi di una macchina per le loro convention oppure anche per le loro conferenze stampa ma anche soprattutto nell'ultimo periodo per fare delle videoconferenze può essere la macchina indicata perché fa tutte queste cose si fa un po di tutto va bene allora abbiamo fatto una una recensione diversa dal solito con un grande collaboratore amico perché ci troviamo spesso a fare matrimoni e litighiamo un po ogni tanto tra fotografi e videomaker c'è un po sempre un po di attrito amore e odio amore e odio io ringrazio tantissimo pieto ragazzi se vi è piaciuto l'articolo al solito mettete un like e ricordare di fare la sottoscrizione al nostro canale di spuntare la campanellina e ci vediamo alla prossima recensione magari ancora con pietro ciao ragazzi ciao ciao a tutti